Buonasera a tutti, il Movimento 5 Stelle è sempre vicino a giovani precari e piccole imprese e lavoratori autonomi. Vi voglio parlare a questo proposito della nostra proposta di legge sulla tassazione dei contribuenti minimi, cioè di tutti i contribuenti che hanno una piccola impresa o che vogliono aprire un'attività. A questo proposito noi abbiamo proposto un semplice schema fiscale che prevede un'attassazione al 5% per i primi 5 anni di attività e al 15% dal quinto anno in avanti. È opzionale, è un regime che può essere scelto oppure si può optare per il regime ordinario e il limite di fatturato cui una persona può accedere è di 40.000 euro. Quindi significa che tutti coloro che hanno un fatturato di questa entità potranno tranquillamente accedere a questo regime attraverso una forfettizzazione semplice di tutti quelli che sono gli oneri fiscali attraverso l'applicazione di questa unica imposta sostitutiva che sostituirà quindi IVA, IRPEF, qualunque tipo di imposta e che si applicherà al fatturato meno i costi che queste persone sosterranno nel corso d'anno. Semplificazione degli addempimenti e massima riduzione fiscale. Questo è quello che vogliamo per un'impresa giovane, un'impresa nuova, un'impresa 5 stelle. Semplificazione degli addempimenti e massima riduzione fiscale.